Ciao ragazzi, io e Piccettino oggi abbiamo deciso di portarvi a parlare un po' di digitale perché sì, mi hanno fatto notare giustamente che io ne blattero tanto online, su Whatsapp, con gli amici, gli faccio due maroni tanti però poi in realtà sul canale non è che ne parlo così tanto e invece è sbagliato, voglio portarvi qualcosa di più anche perché c'è una casa editrice che dal mio punto di vista è la top di gamba sotto il punto di vista digitale che è la Bao Publish non parlo di qualità di opera, parlo del come gestisce il digitale come lo gestisce Bao? ad ogni uscita abbiamo il cartaceo e il digitale un cartaceo costa 20 euro, un digitale ne costa circa 10 quindi la metà, più o meno questo è quanto e avete questa opzione costante davvero molto molto bella e non servono app dedicate si va su Amazon e trovate tutto sul Kindle già le trovate quindi davvero molto comodo non dovete farvi cose particolari o vari account ne basta uno di Amazon e avete risolto io le leggo sul Kindle la loro cosa, sull'app della Kindle inoltre Bao ti offre l'opzione ogni mese di due titoli in fortissimo sconto escludendo Zero Calcare che ciclicamente è in sconto in digitale però ci sono sempre altri due titoli del loro catalogo che vanno da 1,99 a 2,99 insomma a seconda dello store in cui li comprate insomma voi di base ogni mese con una spesa che viaggia tra i 5 e 6 euro potete portarvi a casa due volumi Bao in digitale e due volumi Bao in digitale vuol dire 300, 400, 500 pagine tranquille di lettura ora non è la mole di lettura ok che fa la differenza però capitemi che avete queste opzioni e una di queste opzioni è quella che vi presento oggi che è Calypso di Alice Berti è un albo che normalmente non avrei considerato ma non perché ce l'ho con Alice Berti o con la Bao anzi ma non mi era mai caduto l'occhio e non ero mai andato a sfogliarlo primo perché è un mazzolone da 200 pagine cartonato che mi chiedo dove lo metto secondo perché mi costi che è una ventina di euro e al momento non ho queste enormi disponibilità quindi trovarli in digitale in offerta ho detto perché no di base quelli io non me li lascio mai sfuggire quando Bao li mette io lo faccio ciclicamente sono un po' sempre quelli però ogni tanto hanno qualche sfulgorata e questo è un volume del 2022 ragazzi praticamente nuovo è la seconda opera di Alice Berti ed è molto interessante davvero molto interessante abbiamo Calypso Calypso è un agente dei servizi segreti italiani del servizio Woman Help and Health Division che si occupa di andare a arrestare persone coinvolte in crimini a livello sessuale quindi davvero abbastanza forte come lo fa? facendo l'agente sotto copertura di base utilizzando la sua indubbiabilità quindi il suo fascino l'utilizzo del suo corpo è brutto da dire ma è quello che fa fondamentalmente per trascinarli ed arrestarli vediamo che ha però quel guizzo del vorrebbe qualcosa in più come punizione lo vediamo già nel primo arresto che vediamo nella storia fondamentalmente tutto questo cambia quando conosce Alessandro Alessandro è anche esso un poliziotto che però diventa uno dei suoi target perché c'è questa presunta questa presunta violenza che ha perpetrato lui nei confronti di una minore in realtà scopriamo delle cose un po' particolari scopriamo che lui è un asessuale che oggi che nel mondo moderno è un termine abbastanza non dico ad uso e consumo però si sta aprendo questa fascia della considerazione della propria identità sessuale cioè un uomo piace uomo uomo piace donna donna piace donna donna piace uomo fluido insomma ce ne è mille io sono per il political incorrect quindi per me piacetevi quello che vi piace ok però l'assessuale è una cosa particolare non prova l'attrazione verso l'atto verso queste cose non gli interessa non fa parte del suo bagaglio di emozionalità non saprei come spiegarvelo meglio perché è una cosa che onestamente esula un po' dalla mia comprensione diciamo che non ho gli strumenti e i mezzi per spiegarvi esattamente come funziona anch'io ho seguito un po' google dopo che l'ho letto per capirci qualcosa in più il materiale ce n'è ma non è proprio così immediato ok insomma praticamente il sospetto che lui non abbia compiuto quel tipo di atto c'è e chiacchierando con lui la nostra Calypso decide di metterci in società e di alzare la posta la punizione sarà totale verso le persone che compiono quei tipi di crimini diventeranno una sorta di A-team cioè li contatteranno privati che pagheranno per portare a termine queste eliminazioni di questi personaggi squalli di oserei dire e vediamo proprio il cambiamento di attitude vediamo la prima volta in una prima missione di Calypso anche la sua sensazione il suo parlarci in maniera quasi diretta con la voce fuori campo molto noir come cosa ma molto bella perché contestualizza bene e poi vedremo un secondo cambio ovvero l'arrivo di Matteo durante una missione il suo obiettivo non c'è lei ha questa festa deve andare contro questo obiettivo prendere e uccidere questa persona che non c'è però a questa festa conosce Matteo Matteo ha una decina d'anni Calypso ne ha quasi 30 circa lui ne ha quasi 40 ha una decina d'anni in più di lei e lì scopcia quella scintilla tra i due più fisica anche se c'è l'affetto però lì vediamo proprio la fisicità tra i due c'è il contraltare tra Alessandro che non ha la fisicità ma c'è comunque quel quel quid del rapporto perché comunque non vedremo mai atti o spinte verso perché Alessandro non ce l'ha però vedremo degli atteggiamenti tra i due molto da coppia molto 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 teneri vedremo anche certe scelte di di tavole che vedremo portano quasi una distanza tra i due c'è molto bello anche come inquadra le tavole e il rapporto tra i due quindi le due diciamo entità che normalmente stanno in un rapporto quindi la dolcezza e la complicità eccetera e la fisicità le vediamo splittate in due diverse entità a completare il tutto abbiamo i servizi segreti italiani che ancora la cercano e comunque Calypso era un pezzo da 90 del suo corpo speciale quindi ancora si cerca di capire che fine ha fatto di andare a ripescarla in mezzo c'è pure Lola la amica coinquilina di Calypso e anche lei avrà un ruolo la classica bionda un po' svampita però è divertente vi fa arredo a me piace mi è piaciuto come personaggio insomma tutto questo caravan serraglio si unisce in una storia in una storia che vi porta a parlare d'amore a parlare di sviluppo di rapporti a parlare anche di rapporti complicati che magari vanno anche con un lieto fine per un certo periodo Calypso ve lo spiega bene quando Alessandro e Matteo si incontrano non vado oltre perché è molto bella quella parte e poi però qualcosa deve succedere per portare a una conclusione questa avventura e la conclusione è molto straniante non è quella che forse da una metà albo in poi ti aspetti perché Calypso farà un qualcosa che rispecchia quello che ti dice all'inizio questa non è una storia d'amore o meglio lo è ma non verso il prossimo non voglio farvi eccessivamente spoiler il finale è molto particolare lascia aperto ovviamente un grande portone che potrebbe anche non aprirsi mai rimanere così e ti dà il senso di crescita di presa di consapevolezza di una ragazza che ha dalle sue il corpo la preponderanza la bellezza però non vuole solo quella ecco è molto interessante è un fumetto che consiglio di leggere che ad una prima analisi è cioè che è una prima banale analisi sfogliandolo sembra un po' solleticare il pruginino maschile ed essere con un disegno che come avete visto da tutte le tavole non ho parlato dei disegni dei colori mi parlo un po' alla fine sembra un po' più sempliciotto un po' più funny un po' più divertente perché non è iperrealistico ma è solo molto incisivo è molto mangheggiante per certi versi non è un manga ovviamente però è molto mangheggiante molto accattivante i personaggi sono riconoscibili realistici ma non reali ecco mettiamola così quindi magari è un primo sfoglio potrebbe sembrare qualcosa che non è in realtà quando lo leggete vi accorgete quando arrivate alla fine che avete letto una storia molto più profonda di quello che poteva sembrarvi e l'avete letta con piacere perché scorre bene e i disegni sono quasi passatemi il termine un alleggerimento di quella pesantezza che c'è di fondo davvero dal mio punto di vista un perfetto connubio ve lo consiglio beh sì assolutamente sì a maggior ragione se lo volete prendere a 1,99 euro adesso sul su Kindle o sul sito della BAU in digitale perché 1,99 euro ragazzi se non lo comprate siete degli assassini celebrali però ve lo consiglio ve lo consiglio davvero perché ha quel ha quel guizzo ha quella freschezza e magari è proprio quella lettura che non ti aspetti che ti capita un po' tra capo e collo che non ti aspetti e la fai e ragazzi davvero è un peccato non sfruttare un'offerta di questo genere per leggersi un fumetto così bello e ripeto io stesso andando in libreria e guardando non ci ho mai fatto tra virgolette la posta leggendolo così avendo questa opportunità questa possibilità mi sono innamorato di Calipso del modo di disegnare di questa ragazza di Alice Berti del suo modo di raccontare e vi dirò di più appena ho possibilità recupererò anche altro materiale di questa autrice perché mi è piaciuta davvero ecco a volte serve quel quel passaggino Calipso ad oggi è un bellissimo volume che vi può permettere a innanzitutto di leggere una bella storia ben disegnata e ben raccontata b di poter sfruttare una bella promozione e magari dare adito a uno sfrutto successivo delle promozioni di Bao e c di cominciare magari a prendere confidenza con un mezzo di lettura perché non è un cambio non è che il fumetto smettete di leggerlo perché oggi è digitale è un cambio di mezzo che magari potrebbe stupirvi perciò usiamo questa prima recensione e tante altre perché voglio fare anche altre dedicate a questo tipo di fruizione a questo tipo di offerte quindi praticamente ve lo dico prima 90% saranno recensioni dedicate a Bao proprio per portarvi a comprendere questo piccolo meccanismo e intanto anche per presentarvi opportunità di leggere Buon Fumetto oh nessuno vi preclude il fatto di uscire adesso andare in Filtrinelli Mondadori dove volete voi e comprarvi volume cartaceo questo assolutamente non è precluso quindi in ogni caso Calypso Alice Berti Bao assolutamente consigliato digitale lo trovate in offerta 1,99 euro cartaceo è sulla ventina di euro non c'è nessuna ragione al mondo per cui voi non dobbiate leggere questo fumetto io ve lo consiglio mi raccomando ciao ragazzi grazie a tutti Grazie per la visione!